Buon pomeriggio e benvenuti al quarto appuntamento di incontri di Fisica Online, il corso di formazione e aggiornamento su temi di fisica moderna per docenti di discipline scientifiche delle scuole secondarie di secondo grado e giornalisti scientifici, organizzato dal Servizio Informazione e Divulgazione Scientifica dei Laboratori Nazionali di Frascati degli NFM. Oggi parliamo di Fisica delle Particelle con Barbara Sciaccia. Barbara è ricercatrice presso i Laboratori di Frascati degli NFM, ha collaborato a lungo con l'esperimento CLOE e ora lavora nell'esperimento PADME dei Laboratori Nazionali di Frascati. Riveste i ruoli di team leader dell'esperimento LHCB ai Laboratori Nazionali di Frascati e new on project leader sempre per l'esperimento LHCB al CERN. Da molti anni prova a raccontare la scienza difficile a curiosi appassionati di ogni età. Potete scrivere le vostre domande nella chat e al termine risponderemo ad alcune di queste. Barbara, a te la parola. Grazie Susanna, buon pomeriggio a tutti. Allora, questa serie di Lectio Magistralis che ci siamo inventate quest'anno per sopperire ancora una volta la impossibilità di vedersi di persona, e abbiamo scelto un argomento che è un po' ostico addirittura per chi ci lavora, per chi è del campo. Sono le anomalie del modello standard. Oltre a essere un po' ostico, è anche la prima volta che provo così a raccontarlo a un pubblico di non esperti. Quindi ci pensavo un po' nelle settimane scorse e quando mi sono messa così a fare le slide mi è tornata in mente una frase detta da un mio collega, Nico, durante un test che abbiamo fatto a fine ottobre con i primi fasci di LHC che sta ricominciando a fare quello che si chiama il commissioning dell'acceleratore al CERN. Ha detto qualcosa del tipo, si notano soltanto le cose che causano problemi e che non vanno e non tutto il resto che funziona così come ci saremmo aspettati. Per parentesi questa frase è molto simile a una frase detta da Marie Curie che ha vinto ben due premi Nobel e pare che dopo aver preso la seconda laurea, quella in matematica dopo quella in fisica, avesse detto uno vede soltanto quello che rimane da fare, di nuovo quello che non va. E quindi cercherò di muovermi su due piani, il modello standard delle particelle di cui accenderò qualcosa ma di cui molto vi ha raccontato Danilo Domenici nella sua lezione 3-4 settimane fa e le cose che non funzionano del modello standard. Quindi il modello standard è forse la più alta creazione della comunità umana, della scienza, funziona molto molto bene ma non ci basta. Proviamo un po' a capire perché non ci basta. Prima di capirlo vediamo un po' i vari ingredienti. Questa tabella che vi ho fatto vedere prima è una tabella che avete visto molte volte sono tutti gli oggetti elementari con cui possiamo costruire, immaginare di costruire tutto quello che esiste ed è anche esistito in tutta la storia dell'universo. E questo modello non l'abbiamo diciamo costruito così a tavolino un giorno ma viene da una serie di scoperte e idee che sono raccontate qui in funzione del tempo. Quindi in asse orizzontale abbiamo il passare degli anni e sull'asse verticale le varie particelle. Il trattino che vedete descrive, diciamo indica l'inizio, il primo trattino quando questa particella è stata diciamo tipicamente teorizzata e la fine del trattino quando l'abbiamo scoperta. Vi faccio notare un paio di cose interessanti. Uno è il muovo nella terza riga in cui vedete che viene prima il trattino rosso e poi quello blu molto vicini perché in realtà viene scoperta e poi viene inserita nel modello teorico. E poi vi faccio notare due aspetti che ci serviranno. Una è la quarta riga, il neutrino elettronico, in cui passano quasi diciamo più di 30 anni tra quando viene ideato e quando viene confermato sperimentalmente e poi l'ultima riga, quello più noto, il bosone di X, ci abbiamo messo più di 40 anni tra la teorizzazione nel 64, nel 164 e la scoperta nel 2012. La costruzione del modello, diciamo, adesso io la faccio un po' facile, abbiamo fatto l'elenco delle particelle scoperte, le mettiamo in una tabella, vedete, ma diciamo è guidato da alcune grandi idee e l'esempio che si può fare, che forse è anche più vicino a una fisica che è nota, è quella dell'equazione di Maxwell, dove quando Maxwell, insieme a moltissimi altri colleghi, opera, si trova con due ambiti apparentemente separati, che era l'ambito dell'elettricità e l'ambito del magnetismo e il lavoro fatto da molti altri, non soltanto di Maxwell, ma ha un suo apice nella formulazione dell'equazione di Maxwell, in cui si riconosce che fenomeni apparentemente molto diversi potevano essere descritti in un unico modo, peraltro molto elegante, che erano le equazioni di Maxwell riportate in questo disegno, diciamo, in questa fotografia che abbiamo fatto qualche anno fa, perché, diciamo, ci veniva difficile impaginare la rivista Simmetrie con le formule, l'abbiamo messa utilizzando questa foto, e, diciamo, queste equazioni hanno una loro eleganza intrinseca, si dovrebbe fare un'intera lezione soltanto sulle equazioni di Maxwell, e diventano anche predittive, infatti da essi abbiamo quella che è la teoria moderna della luce, l'equazione delle onde elettromagnetiche della luce. Quindi questa idea di provare a mettere insieme fenomeni differenti in un modo che è unito ed elegante, sarà uno dei dei leitmotiv di tutta la costruzione del modello standard. E un'altra idea, diciamo, che guida un po' la costruzione del modello standard, io vado avanti un po' per grandi idee, cioè poco dettaglio matematico, ma provare a ragionare su delle idee che sono anche più facili poi per voi da riraccontare, da usare con le classi, è l'idea dell'antimateria. L'antimateria è di nuovo un'idea matematica che viene in mente a Dirac per cercare di descrivere matematicamente il comportamento dell'elettrone. Una volta capita, l'idea è molto semplice, proprio come l'esempio che uso di solito con i ragazzini, che se uno fa i biscotti con le formine, se ha fatto una formina, ha fatto un biscotto, rimane un vuoto. Quando Dirac ha questa intuizione, poi appare come una spiegazione naturale che descriveva le cose già note, essenzialmente il comportamento degli elettroni negli atomi, ma anche in questo caso prediceva qualcosa di nuovo, che viene trovato pochissimi anni dopo nei raggi cosmici da Karl Anderson. Quindi questa, diciamo, seguirsi di ideazione e conferma sperimentale è un'altra caratteristica che guida tutta la costruzione del modello standard. L'antimateria è particolarmente interessante per svariati motivi. Partiamo dall'idea che dall'input iniziale di Dirac sull'elettrone, che vedete in questo schema del modello standard, i mattoncini che lo costruiscono e il cubetto in basso a sinistra, si assume che esista un mondo assolutamente speculare in cui per ogni mattoncino, mentre queste cose non erano note ai tempi di Dirac, ma è una costruzione intellettuale che avviene col passare degli anni, a ogni particella elementare corrisponde una sua antiparticella e quindi potevano esserci due mondi esattamente equivalenti, basta mettersi d'accordo sulle cariche. La caratteristica principale che differenzia all'elettrone e l'antielettrone detto anche positrone è la posizione di carica. Questa simmetria che qua in questa trasparenza è data come se fosse una cosa speculare, è matematicamente rappresentabile in questo modo. La materia ha il quadratino in alto a sinistra e per arrivare a definire l'antimateria esattamente come ha fatto Dirac, utilizzo due operazioni matematiche che sono seguendo la freccia blu orizzontale l'operazione di parità in cui io mi metto allo specchio geometricamente e poi un'operazione indicata con la freccia verticale verso il basso rossa di coniugazione di carica, cioè scambio le cariche e vedete che facendo queste due operazioni in sequenza o se volete seguendo la linea obliqua al centro, io ho che la simmetria tra materia e antimateria è esatta, cioè non sono in grado di distinguere i due mondi fatti uno di materia e uno di antimateria. In realtà a un certo punto scopriamo che questo non è così, capiamo diciamo sempre utilizzando questo esempio la differenza minimale, se noi nella materia abbiamo un comportamento che non è esattamente identico, vedete che le due operazioni che ho descritto prima, quindi la simmetria geometrica rispetto a una linea e poi il cambio della carica, quindi il passare dal bianco al nero, mi portano a un mondo in basso a destra che è distinguibile o un po' distinguibile da quello della materia, quindi abbiamo materia in alto a sinistra, antimateria in basso a destra e il fatto che questa simmetria non sia perfettamente rispettata ci permette di distinguerli. Ora perché vi faccio tutta questa premessa? Perché nello studiare le interazioni deboli, cioè quello che ha a che fare con i decadimenti nucleari, vari scienziati negli anni, fine anni 50, iniziali anni 60, trovano che le due proprietà P e C, cioè parità e combinazioni di carica, venivano violate, cioè non venivano conservate nelle interazioni debole, ma si assumeva che una loro combinazione invece fosse una simmetria forte del modello standard. Ma nel 64 arriva il gruppo di Cronin e Fit e trovano che un certo tipo di quark, il quark strange, loro studiano i mesoni K che sono fatti da un quark strano e da un quark di tipo up, violavano questa differenza, cioè si poteva dire quando si aveva a che fare con dei K o con degli anti-K, quindi quark S, anti-quark S, siamo nel 64 e rapidamente la storia va avanti, ci sarebbe anche qui da fare un'intera lezione sulla violazione della simmetria CP, ma la cosa viene confermata con due esperimenti fantastici che sono Bell in Giappone e Babar in California, questa violazione, questa differenza tra materia e antimateria nei quark di tipo B. Di recente LHCB, l'esperimento per cui lavoro principalmente adesso, nel 2019, trova che anche il quark C, anche per il quark C vale questa differenza, cioè la simmetria CP lascia due oggetti di che sono, di cui è possibile riconoscere la differenza e poi c'è un gran finale recentissimo di un nemmeno due anni fa in cui questa differenza tra materia e antimateria viene trovata dall'esperimento Super Kamiokande in Giappone anche per i neutrini e sui neutrini diciamo spenderemo un po' di tempo. Allora perché insisto così tanto su materia e antimateria? Perché se vi ricordate anche da quello che vi avevo accennato alle lezioni Danilo qualche settimana fa, noi abbiamo un modello di come si è formato l'universo, abbiamo momenti iniziali in cui abbiamo tanta materia quanto antimateria e ci troviamo oggi a un universo in cui esiste sostanzialmente soltanto materia. È rappresentato, se parlate la parte a sinistra in blu di materia, c'è questo uno di differenza, quindi questo che potete vedere è un universo che sembra assolutamente simmetico tra materia e antimateria, per fortuna c'è una piccola differenza perché oggi ci siamo noi. Questa piccolissima differenza tra materia e antimateria è quello che permette la nostra esistenza. Questo è uno degli elementi, anche qui ci sarebbe da fare un'intera lezione sulle condizioni di Sakharov, ma mano a mano che prende piede l'idea della differenza tra materia e antimateria, Sakharov prova a ragionare, è un grande fisico russo che poi ha lavorato molto negli Stati Uniti, quali dovrebbero essere le caratteristiche per avere un universo che da uno stato iniziale che è simmetrico e uniforme, si arriva ad un universo che è dominato soltanto dalla materia. C'è un grosso lavoro dietro e non ho tempo di andare in tutti i dettagli, ma tra le condizioni, il secondo punto è che deve esserci una violazione di CP, cioè le materie e antimateria devono comportarsi in qualche modo in modo differente. Allora, la scala che vi ho messo sotto è la differenza misurata in maniera opportuna tra materia e antimateria e vediamo un po', perché poi da scienziari dobbiamo non solo fare un'ipotesi, ma metterci una definizione anche quantitativa. Allora, il numero più basso, lo vedete in rosso, 10 alla 118, è il valore di questa osservabile, se si assume che l'universo non sia capace di distinguere tra materia e antimateria, cioè che siano sostanzialmente identiche. Poi, il numero in arancione è la differenza tra materia e antimateria che stiamo trovando nei nostri esperimenti, quella che avevano trovato cronine ficta nei k, poi nei quark b, troviamo una differenza molto piccola tra materia e antimateria, invece la cifra in verde che vedete all'estrema destra, 10 alla meno 10 di questo parametro, è quello di cui abbiamo bisogno per spiegare, diciamo, la nostra esistenza, cioè è la asimmetria tra materia e antimateria che inserita nelle condizioni di Sakharov e poi nell'attuale modello del Big Bang permette la nostra esistenza. Quindi, vedete che da un elemento, diciamo, quasi un vezzo matematico trovato da Dirac per spiegare le proprietà dell'elettrone, ci troviamo a che fare, a ragionare sull'esistenza stessa di noi stessi. E un'altra cosa che non capiamo, oltre alla differenza tra materia e antimateria, è il numero di famiglie. Se vedete in basso a destra ci sono i tre doppietti di quark. Allora, perché lo metto qui? Perché il fatto di avere tre famiglie di quark è l'unica spiegazione, l'unico modo in cui siamo riusciti a inserire nel modello standard matematico la differenza tra materia e antimateria. D'altra parte non abbiamo idea del perché ci siano tre generazioni. La prima generazione, che è quella che è rappresentata a sinistra, in cui abbiamo il quark up, il quark down, un neutrino elettronico ed elettrone, è sufficiente a spiegare sostanzialmente tutto quello che ci circonda. Non riusciamo a spiegare i primissimi istanti dell'universo, cose che magari ricreiamo negli acceleratori, nei nostri esperimenti, ma non c'è una necessità di avere altre generazioni e non c'è nessun motivo per averne tre in particolare, né per le varie differenze di massa. Le tre generazioni si differenziano essenzialmente per la massa. E di questa generazione della prima concentriamoci sempre sul neutrino, che è una particella che riserva molte sorprese e che potrebbe essere uno dei portali che ci darà risposte sulle domande che ci stiamo facendo. E ragioniamo su una idea che è stata introdotta da Leo Lederman, che vedete in alto a sinistra, è uno dei primi grandi divulgatori, diciamo anche noti al grande pubblico, era un americano, anche lui premio Nobel, per aver scoperto che di neutrini non esisteva uno soltanto, cioè quello elettronico, ma esisteva anche il neutrino muonico. E lui nel tentativo di raccontare un po' questo senso di necessità che noi scienziati troviamo, per cui alla fine crediamo a una, diciamo, ipotesi. Io ho fatto notare all'inizio che il neutrino viene formulato negli anni trenta e viene scoperto sperimentalmente quasi trent'anni dopo. Eppure nessuno aveva dubbi in questi trent'anni che il neutrino esistesse veramente. Lui raccontava così, faccia tutta una storia un po' complicata con gli extraterrestri, ma la possiamo semplificare così. Immaginate il gioco del calcio, i fantastici mondiali di quest'estate. Immaginate di vedere una partita o tutta la fase finale, i gol, i rigori, senza vedere il pallone, senza sapere che il pallone esiste. Tutta una serie di cose sono prive di significato. Abbiamo esattamente la stessa informazione. Vediamo il portiere che si butta da una parte, vediamo uno che esulta, vediamo uno che si spinge, ma tutto ha relativamente poco senso. È come quando accumuliamo diversi fatti sperimentali in cui non c'è un'idea. A un certo punto abbiamo una ipotesi, in questo caso possiamo fare l'ipotesi che ci sia un pallone, e tutti i dati accumulati, il portiere che si getta da una parte, le acrobazie di un giocatore, assumono un senso. Il neutrino era stato inventato perché era necessario a garantire la conservazione dell'energia nel decadimento del neutrone. Si pensava che la conservazione dell'energia fosse troppo importante per Cetera, quindi si fa un'ipotesi che spiega un sacco dei fatti sperimentali legati al decadimento del neutrone. E poi si trova molti anni dopo. Questa è un'altra delle idee che informano il nostro fare fisica, il nostro cercare cose nuove. Qualcosa che funziona molto bene. Rimanendo sempre sui neutrini, vedete sempre in alto a sinistra c'è il nostro schema delle particelle, ingrandisco la parte dei neutrini. Perché? Allora, uno dei problemi del modello standard, quando fu formulato, era che prevedeva particelle a massa nulla, mentre si sapeva già anche prima di formularlo che i vari elettroni, muone e ria scoperti avevano una loro massa. Il modo, l'idea geniale, il pallone se volete, è la formulazione di Higgs, quindi è il modello di Higgs per dare massa alle varie particelle. Questo modello, di nuovo richiederebbe una bellissima lezione a sé stante, è capace di dare la massa ai sei quark e ai tre leptoni carichi, quindi elettrone, muone e tau, ma non può dare massa ai neutrini. Peccato che ad un certo punto, alla fine degli anni 90, nel 98, si è scoperto che i neutrini avevano massa. Quindi anche nel semplice modello, nella semplice tabellina che vedete, in cui uno dice, beh, ma il modello standard funziona, che altro andiamo a cercare. Già i semplici neutrini nel modello standard devono essere a massa nulla, mentre noi misuriamo delle masse. Come l'abbiamo fatto a misurare? A un certo punto si è scoperto che i vari tipi di neutrino non rimanevano sempre lo stesso. Nel loro percorso oscillavano da un tipo all'altro. Tecnicamente si dice che gli autostati dell'interazione debole, che sono elettroni, muone e tau, e gli autostati di massa, che sono gli 1, 2 e 3 che vedete sotto, non erano gli stessi. Allora, si è scoperto, inizialmente studiando i neutrini dal sole, poi in tante altre combinazioni, che un neutrino nasce in un certo modo, per esempio nasce il neutrino elettronico e poi nel suo cammino cambia il tipo, diventa mu, può oscillare da uno all'altro. Questo può avvenire soltanto se i neutrini hanno massa e per cercare di capire come hanno massa e perché ce l'hanno così piccola, perché i valori di massa sono bassissimi, se vedete nella tabellina lì in alto, nello schemino, sono tutti i valori superiori, il neutrino elettronico è inferiore a, diciamo, di 500 volte a quella della massa dell'elettrone. Un modo per provare a dargli massa è supporre che esista un ulteriore neutrino chiamato neutrino sterile, sterile in questo caso non è un aggettivo negativo ma indica il fatto che non interagisce con le particelle del modello standard, molto molto più pesante e quindi come scienziati ci siamo messi a cercare tracce di questo neutrino sterile che è uno dei modi per spiegare perché i neutrini hanno massa. Quindi vedete il disegno, modello standard, neutrini, nel modello standard i neutrini sono privi di massa, devo trovare un trucco differente da quello del meccanismo di Higgs per dargli massa, potrebbe essere il neutrino sterile. C'erano alcune indicazioni dei esperimenti di neutrini fatti evidentemente negli Stati Uniti e è arrivata la notizia meno di un mese fa, fino a ottobre scorso, che in realtà questa cosa non è vera. Cioè degli esperimenti di neutrino hanno trovato degli eccessi di neutrino elettronico dove non se le aspettavano e questa poteva essere una indicazione di una presenza del neutrino sterile, quindi una misura indiretta, poi torneremo sulle misure indirette. In realtà questo micro bone che è l'esperimento più raffinato fatto, mi comincio a far notare che questi esperimenti di cui noi facciamo vedere grafici e disegni hanno anche un impatto industriale, notate questa figura, questo è l'oggetto, la parte principale del rivelatore che viene calata, vedete un omino lì in basso a sinistra. Il risultato qual è? Se ci fosse stato un neutrino sterile ci aspettavamo di trovare le righe rosse, i quattro canali che vedete sono quattro possibili modi di vederlo, ci aspettavamo di vedere qualcosa vicino alla riga rossa, invece vediamo i bei punti neri che sono in accordo con l'ipotesi del non c'è un neutrino sterile, almeno nella versione più semplice del neutrino sterile. La teoria più semplice in cui possiamo aggiungere un neutrino sterile viene sostanzialmente distrutta, cancellata dal risultato di micro bone uscito pochissime settimane fa. Questa è una slide che ho preparato per un seminario che ho fatto tecnico, ma il succo è esattamente lo stesso. Abbiamo moltissime domande aperte, non soltanto signor Trini, non sappiamo perché c'è una gerarchia di massa dei quarti, non sappiamo come dicevo perché ci sono tre generazioni, non abbiamo una spiegazione per la differenza tra materia e antimateria, non sappiamo perché fino adesso l'abbiamo trovata soltanto sulle interazioni deboli, non abbiamo idea del perché il bosone di X ha una certa massa e via dicendo, queste sono tutte domande se volete un po' all'interno del modello standard, ma non abbiamo, un po' come accennava Danilo qualche settimana fa, non abbiamo un candidato per spiegare quella che è la materia e l'energia oscura di cui troviamo invece tracce, non abbiamo appunto idea o conferme sperimentali di come possa generarsi la massa dei neutrini. Tutto il modello standard comunque non include la parte di gravità, quindi diciamo c'è amplissimo spazio e possiamo utilizzare un po' questa immagine della nostra conoscenza che è tanta perché se pensate a quello che sapevamo del mondo che ci circonda cento anni fa, questa conoscenza un po' come il cerchio nell'acqua è cresciuta moltissimo, però al crescere della conoscenza cresce anche quello che non sappiamo, che se volete può essere rappresentato dal confine del cerchio, quindi la nostra ignoranza è cresciuta, è un'ignoranza diciamo colta, è un'ignoranza che viene dal sapere tante cose e il problema diciamo forse tecnicamente più complicato è che la parte di conoscenza funziona molto bene, cioè se immaginate nel modello standard questo cerchio che si sta allargando funziona molto bene, adesso non entro nella parte tecnologico applicativa ma ormai nella nostra vita utilizziamo a piene mani conoscenze che sono nate all'interno del modello standard, quindi capiamo un po', diciamo dobbiamo capire come andare a allargare la nostra conoscenza di fronte a questa enorme ignoranza lasciando però la parte centrale ma è lo standard che funziona. Breve pausa sul come i giornali, come poi ci arriva l'informazione, chi deve fare i titoli deve farsi leggere, quindi a volte diciamo ci si lancia un po' e sembra che ogni ognuna delle nuove misure che noi facciamo sia un po' una rivoluzione che cambia tutto e capisco che per i non addetti ai lavori è molto difficile capire le diverse portate. Allora provo, queste sono raccolte negli ultimi anni e provo un po' a darvi delle indicazioni. Partiamo dal bosone di Higgs che vedete in alto a sinistra con una bella fotografia di Higgs. Allora come vi dicevo il bosone di Higgs è un'idea, diciamo è quello che doveva rimanere e quindi dovevamo trovarlo se il meccanismo di Higgs era quello giusto per dare massa in maniera coerente alle particelle all'interno del modello standard. Quindi il 4 luglio del 2012 avviene questo annuncio, questo è uno degli stati principali, ho preso quello dell'esperimento ATRAS, ma l'esperimento CMS, diciamo fratello, ha disegni risultati analoghi e vedete questo bozzo qua in basso a destra che è l'indicazione della presenza di questo bosone di Higgs. Ora questo è un successo enorme, tra entusi tecnologico viene dalla costruzione dell'enorme acceleratore all'HC, 27 chilometri di circonferenza, due enormi esperimenti, ma non è nulla di nuovo, cioè è qualcosa che sta all'interno di quel cerchio dell'acqua di cui vi parlavo. Era l'unica ormai idea rimasta per spiegare le masse all'interno del modello standard. Se non avesse funzionato dovevamo inventarcene un'altra, ma stavamo ancora all'interno del modello conosciuto. Lo stesso quando si fanno vedere queste indicazioni di nuove particelle scoperte, c'è questo collega di LHCB, Patrick Oppenburg, che si diverte a raccogliere, quindi qua vedete sull'asse orizzontale l'anno di scoperta, sull'asse verticale la massa di queste nuove particelle, LHC ne ha scoperte 62, invece i 55 le abbiamo scoperte LHCB. Vi faccio vedere una tra le tante, questa gialla al centro si chiama la CAI CC++, su cui c'era stato un grande urlare nel 2017 quando è stata pubblicata, ma in realtà non è così, non ci porta troppo lontano. Ve ne convinco tornando indietro all'articolo di Gelman del 1964, in cui per la prima volta teorizzava l'esistenza dei quark e spiegava come potevano essere costruiti mesoni e barioni, e quindi mesoni sono oggetti che noi chiamiamo adroni, scusate, gli adroni standard sono fatti o di un quark e un antiquark chiamati mesoni, oppure di tre quark chiamati barioni, però nell'articolo stesso dice che nulla nella teoria previene che ci siano composizioni di più di tre quark, quindi tetra quark o pentacorque, e ci abbiamo messo tanto, di nuovo la spiega tecnologica e scientifica è enorme, alcuni di questi sono nuovi barioni, quindi oggetti di tre quark, altri, molti altri sono il tetra quark e il pentacorque. Di nuovo è un'informazione interessante, serve a raffinare la nostra conoscenza, a capire molto meglio l'interazione forte, ma siamo ancora nel campo delle cose note. Altra storia invece è quando dobbiamo andare a cercare cose non note, e ci sono due tecniche che noi utilizziamo, ho trovato un'immagine un po' diversa dal solito, tecnicamente si chiamano ricerche dirette o indirette, oppure frontiera dell'energia e frontiera della precisione. Se vi ricordate la storia del piccolo principe che gira sui vari pianeti, incontra personaggi via via più strani, tra cui a un certo punto il geografo, che però non si muoveva dal suo tavolo, dal suo librone, dal suo pianeta e pretendeva che gli portassero informazioni. Potremmo dire che il geografo è quello che studia la precisione dell'informazione e cerca di imparare da questo, quindi è la ricerca indiretta. Mentre l'esploratore è colui che prende, o colei che prende e va a cercare direttamente diciamo informazioni nuove, ed è quella che noi chiamiamo la frontiera dell'energia e dell'alta energia. E quindi alta energia, torniamo al nostro LHC, qua siamo a dicembre del 2015. LHC ha funzionato per pochi mesi, per la prima volta a 13 tere elettronvolt, 13 TEV, che è l'energia più alta mai raggiunta, e trovano sia ATLAS, sinistra, che CMS, un bump, un bozzetto. Nel disegno di ATLAS, vedete quanto assomiglia a quello dell'X che vi ho fatto vedere prima? Era a 750 GEV di massa, elettronvolt, MEV, GEV, TEV sono misure di energia, ma anche di massa per come diciamo le usiamo noi fisici delle particelle. E a 750 GEV non ci si aspettava nulla, quindi era un segnale da prendere, diciamo era la famosa cosa nuova che ci si aspettava studiando eventi nuovi affinché alta energia, nell'idea del piccolo principe, l'idea dell'esploratore. Però c'è una certa cautela perché entrambi gli esperimenti vedevano qualcosa, ma la significatività statistica non era sufficiente. Che cosa vuol dire? Facciamo un esempio molto semplice, famosa moneta, dobbiamo scommettere sul testo a croce. Allora, come si confronta questo con la misura o l'ipotetico aver trovato una nuova particella a 750 GEV. Dobbiamo confrontare due ipotesi. Nel caso della fisica, modello standard come lo conosciamo, verso qualcosa di nuovo. Nel caso della moneta dobbiamo confrontare il fatto che sia una moneta equa, che quindi la metà delle volte via testa e la metà croce, oppure una moneta truccata. Quindi l'ipotesi nuova è che la moneta sia truccata. E che facciamo? Facciamo un esperimento, quindi cominciamo a lanciare la moneta e troviamo questi risultati che sono apparsi. Se facciamo dieci lanci e vediamo che sette volte è apparso testa e tre volte è apparso croce, possiamo subito dire che la moneta è truccata e che darà sempre testa? Istintivamente diciamo di no, perché sappiamo che può succedere anche che ci siano più lanci di testa. Allora continuiamo a aumentare il numero di lanci, andiamo a cento, poi andiamo a mille. A mille troviamo 507 lanci testa. Ci dice che la moneta è buona o è tarocca, come si dice a Roma. Allora esiste tutta una branca, di nuovo ci dovrebbe fare un'intera lezione, la tripe delle probabilità e poi la statistica che ci permette di capire qual è la probabilità che una moneta buona ci dia il risultato che vedete qui sui mille lanci. Va bene? Questa teoria invoca tutta una serie di parametri, quello più noto sono le famose sigma, cioè ci dice quanta è la probabilità che il modello sia giusto, cioè che la cosa nuova sia apparsa per caso e la probabilità con cui erano accaduti, torno indietro nelle slide, questi due fenomeni era ancora troppo bassa per dire che c'era stata una scoperta. E' esattamente come con la moneta, io aumento il numero di lanci via via per convincermi se la moneta è buona o no, così hanno fatto. Nel 2016 abbiamo ricominciato a prendere dati e agosto del 2016 è arrivata la delusione. Nel senso, anche qui vedete ci sono in basso i totali di CMS, in alto quelli di Atras, sono più chiari. Allora la linea tratteggiata che vedete che scende, questa tratteggiata in blu, era il primo risultato del 2015, la riga rossa, quello del 2016, se si mette insieme siamo, vedete c'è la riga orizzontale delle due sigma, ci dice che siamo con una probabilità che questa cosa fosse una fluttuazione statistica, cioè è capitato per caso e non qualcosa di nuovo e quindi è rientrata l'interesse. Quindi bisogna avere grande cautela e un sacco di dati che stiamo raccogliendo. Per invece andare nella parte dei decadimenti, diciamo, in cui studiamo la via della precisione, quel geografo che studia dettagli, fatemi fare una parentesi su quello che è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che vi racconto al volo utilizzando questa strisce, questo è XKCD, è un fisico, un astrofisico che ha messo su questa, prima lavorava come fisico e essenzialmente lavora producendo queste strisce, quindi nella prima striscia dice questo sito vuole sapere la tua posizione, dice ok, permetti, poi aspetta un attimo e dice questo sito vuole sapere il tuo impulso, la tua velocità potremmo dire, e lei dice di Nye, dicendo Nye Stry, hai provato, e questo per i nerd fisici era una cosa divertente perché stava richiamando il principio di indeterminazione di Heisenberg, in cui noi sappiamo che l'informazione che possiamo avere sull'impulso e quella sulla posizione devono soddisfare una disuguaglianza, devono essere maggiori di un certo valore. Questo vale per tutta una serie di variabili coniugate, di nuovo non entro nella parte matematica, ma ragioniamo un attimo su che cosa questo implica per un decadimento, per un processo che vi è noto, che è il decadimento del neutrone, quindi vedete c'è un neutrone costituito da tre quark che decade in un protone, questo vuol dire che un quark D si trasforma in un quark U e trasformandosi come fa? Emette un bosone W che poi a sua volta produce un antineutrino di un elettrone. Quella cosa interessante che voglio farvi notare è che il neutrone e il protone hanno una massa che appunto in queste unità di misura che utilizziamo noi fisici è circa un GeV, un giga elettron volta, e i prodotti di cadimento sono, l'elettrone pesa mezzo MeV, insomma sono molto leggeri, ma il bosone W là in mezzo pesa circa 80 GeV. Cosa è successo? Non stiamo conservando l'energia? No, essenzialmente il principio di determinazione di Heisenberg ci dice che se siamo abbastanza veloci, quindi se la cosa avviene molto velocemente, lì dentro può esserci una non conservazione di energia, quindi può esserci un qualcosa di molto più pesante di quello che era il neutrone iniziale. Teniamo a mente questo concetto che è fondamentale per quello che seguirà. L'altro aspetto che è noto del metodo scientifico è che se vogliamo capire se qualcosa funziona o non funziona, dobbiamo prima definire bene qual è la nostra predizione teorica, cioè che ci dice il modello oggi, la miglior conoscenza che abbiamo della natura e confrontarlo con la misura. Di nuovo, per avere un'idea che ci rimane poi attaccata, la cartina geografica di una zona montuosa è la miglior conoscenza oggi di quella zona, l'andare in montagna è una verifica sperimentale e se troviamo delle cose nuove poi sarà a noi inserirle nella cartina. Va bene? Veniamo allora a un'altra misura che ha fatto scalpone negli ultimi mesi, primavera scorsa, la misura di quello che noi tecnicamente chiamiamo G-2, il momento magnetico anomalo del muone. Di nuovo, concentriamoci sul grafico, abbiamo la banda verde a sinistra è quello che predice il modello standard e la striscia viola sulla destra sono le misure. Questa cosa intrigò molto, la prima riga blu è una misura che è apparsa nel 2001, se non erro, quindi vent'anni fa, in cui si trovava questa differenza per questa quantità G-2, che è una quantità fondamentale della meccanica quantistica, che differiva dalla proiezione teorica. C'è stato fatto un enorme lavoro sperimentale, veramente sì, tecnologicamente molto molto spinto e aprile scorso è uscito fuori il nuovo risultato, questa volta misurato a Fermilab, che sostanzialmente conferma quello del 2001 e la banda viola che vedete è la media dei due. E qua siamo a quello che tecnicamente chiamiamo la differenza di 4,2 sigma tra l'atteso e il misurato, quindi sembrerebbe che ci siamo. 4,2 vuol dire che siamo ovviamente al meglio di la probabilità che sia una flottazione statistica, che sia accaduto per caso è dell'ordine di 1 su 100.000 o qualcosa del genere. Però capiamo un attimo bene come viene della misura, siamo direi ragionevolmente certi, è una misura fatta con grande accuratezza di cui si sono controllati tutti gli effetti sistematici in entrambi i casi. Vediamo questa volta se la predizione teorica è affidabile e nella predizione teorica bisogna cominciare a considerare, questi che vi faccio vedere sono una rappresentazione dei diagrammi di Feynman, che era una tecnica grafica inventata da Feynman per farsi i conti di quello che doveva succedere secondo la teoria. Il disegnino in alto a sinistra ci dice l'interazione base che noi dobbiamo calcolare per misurare questo G-2. Tutti gli altri disegnini che vedete sono delle possibili correzioni, cioè dei modi alternativi in cui in teoria può avvenire l'interazione magnetica del muone con il campo magnetico. Però non è tutto quanto qui, adesso ne ho messi quanti sono? Sei. In realtà è così complessa la cosa e può avvenire in così tanti modi che si è formata una collaborazione di teorici prevalentemente, circa 100 persone che hanno preparato una nuova stima del valore atteso di G-2. Questo articolo è uscito un annetto fa, sono quasi 200 pagine di conti. Ho preso qua uno dei disegni anche perché è molto elegante, ma è un calcolo estremamente complesso. Quindi in questo momento la comunità scientifica è molto contenta del risultato ottenuto della conferma sperimentale, ma con un certo scetticismo sul fatto se abbiamo veramente calcolato tutto quanto quello che ci aspettiamo dalla teoria. e questo ci porta a, diciamo, ragionare su quali misure andare a fare per confrontare teorie di esperimento. Allora ci sono qua tre immagini che vedete e immaginiamo di voler vedere se c'è una persona nuova che ci viene a trovare. Allora se siamo nel mezzo del mercato di Nuova Delhi dove è strapieno di persone, ci si può arrivare da mille vicoletti, mille possie, sarà veramente difficile capire se c'è una persona nuova che ci è venuta a trovare. Poi c'è un caso intermedio che è lo schemino messo in basso a sinistra in cui vedete un posto ordinato in cui ci sono vari modi per raggiungere singole posizioni, ma tutto è abbastanza chiaro e sotto controllo. E poi c'è l'immagine in basso a destra in cui se io sono su una casa in cima alla montagna in cui c'è un solo sentiero che può raggiungermi, sono abbastanza convinta che se controllo quel sentiero potrò vedere chiunque viene e se mi appare qualcuno all'improvviso vuol dire che ha trovato una strada nuova. Vediamo come usiamo questa metafora, questo esempio dell'affollamento per andare avanti alla nostra ricerca. Partiamo dagli eventi rari. Allora questa è una misura fatta da vari esperimenti negli anni del decadimento del mesone BS, vuol dire fatto da un anti-quark B e un quark S, che si trasforma in due muoni. Questo era un processo che secondo la teoria di allora e anche di oggi era molto molto raro, era il caso della casa in cima alla montagna, al picco della montagna. Doveva succedere, se vedete le predizioni sono queste righe blu e rosse orizzontali, circa una volta ogni, cioè tre volte ogni miliardo di mesoni BS. Quindi doveva produrre un miliardo di mesoni BS e tre di questi sarebbero decaduti, si sarebbero trasformati in due muoni. Questa ricerca comincia a fine anni Ottanta e i teorici dicevano c'è così tanto spazio tra la misura, vedete la stellina qua, il primo punto in alto a sinistra che sta poco sopra 10 a meno 4, dice c'è così tanto spazio tra la misura che abbiamo adesso, 287, e quello che ci aspettiamo che sicuramente se c'è una nuova fisica può apparire. Cioè è così difficile, ricordate l'esempio, torno della casa in cima alla montagna, può avvenire in un solo modo la teoria che c'è gran spazio perché ci si inventi una nuova via per arrivare su. Come vedete passare degli anni via via migliora la precisione finché siamo arrivati negli ultimi anni ad aver trovato questo decadimento e averlo anche confermato, c'è uno zoom qua su con le ultime misure e vi faccio notare, ho deciso di utilizzare anche un po' di disegni tecnici per provare a guidarvi un po' nell'interpretazione di quello che poi noi usiamo. A sinistra vedete la combinazione diciamo di varie misure ottenute dai tre esperimenti CERN che hanno fatto, tre esperimenti LHC che hanno fatto questa misura, ATRAS, CMS e BHCB, per tutto questo groviglio di righe e poi le righe più in grassetto sono quelle diciamo in cui combiniamo l'informazione di tre che si vedono meglio nel plot, nella figura di destra e vedete la crocetta rossa dove si è scritto ASM, standard model, è quello che ci aspettavamo, il puntino nero e i vari cerchi sono quello che stiamo misurando, il primo cerchio significa una sigma che vuol dire che la probabilità che noi siamo lì per caso è una su 90 è rotti e così via, due sigma, tre sigma e così via. Quella che vedete in basso è l'ultima misura presentata dall'HCB, di nuovo è una cosa recente, prima era scorsa, marzo scorso, in cui abbiamo migliorato un po' utilizzando tutta la statistica raccolta, il punto è quello che vedete qui il quadratino finale in alto a destra, ma sostanzialmente confermiamo un sostanziale accordo con il modello standard. Quindi da questo decadimento per adesso non c'è la scoperta nuova, cioè questo è il meccanismo del geografo che si è studiato in dettaglio, una cosa molto rara, non è venuto fuori nulla di nuovo, abbiamo ancora qualche speranza per l'altro tipo di decadimento che è il B0, in due momenti il B0 è fatto da un antiquark B e un quark D, ci stiamo ancora ancora lavorando. E veniamo a quelle che sono proprio le cosiddette anomalie, vengono chiamate B anomalies nel gergo scientifico e che coinvolgono in particolare il mio esperimento. A che cosa si riferiscono le anomalie del B? Torniamo alla nostra tabellina del modello standard. Allora parte di avere una diversa massa devono comportarsi esattamente nello stesso modo. Ah ci sono due processi che ho indicato in basso, il primo è la trasformazione di un quark B in un quark C, beauty in charm, di nuovo con l'emissione di un W, e che a sua volta emette un leptone carico e un antinutrino elettronico. Allora questo è un processo per cui ci aspettiamo che il leptone carico sia tante volte il mu quante volte il tau, cioè non ci deve essere per l'interazione che è in gioco qua una differenza. Il secondo processo è diciamo diverso, abbiamo la trasformazione di un quark B in un quark S, qua il meccanismo è più complesso e di nuovo c'è bisogno di una lezione per spiegare perché il meccanismo è più complesso, ma alla fine quello che produciamo sono due leptoni carichi, quindi due coppie o elettroni anti elettroni o muone anti muone o anche tau anti tau e la misura che stiamo facendo in questo momento confrontano i casi in cui la coppia è fatta da elettrone positrone e i casi in cui la coppia è fatta da muone anti muone. Ebbene questo è quello che stiamo trovando, di nuovo utilizzo i plot veri, concentriamoci su quello di sinistra, la crocettina che vedete nera diciamo sulla sinistra è quello che ci aspettiamo dal modello standard, cioè se il muone e il tau si comportano esattamente nello stesso modo. Anche qui vedete il concorso di molti esperimenti che però vengono mediati in quest'unico blob rosso e la distanza è di nuovo di qualche sigma, più di 4 sigma in questo momento. E la comunità è molto interessata a queste misure, c'è meno eccitazioni rispetto a quelle di destra di cui vi parlerò, perché qua siamo nel caso della cittadina ordinata, se vi ricordate nei tre esempi, il mercato di nuova deri, la casetta in cima alla montagna, siamo nel caso della cittadina ordinata in cui la predizione può essere fatta con accuratezza, ma ci sono ancora tutta una serie di ingredienti che potrebbero essere aggiunti alla predizione del modello standard per portarla verso la misura sperimentale. Però in ogni caso questo è un ambito di ricerca che si sta perseguendo da parte di molti esperimenti, sia da noi di LHCB, ma anche da Bell 2 che è un esperimento che è in Giappone e che ha ereditato, diciamo, quello che era Bell che aveva scoperto la creazione di CP nei quark B. Quello a destra è un pochino più tecnico, ma di nuovo abbiamo la riga tratteggiata al centro, che vale 1, ci dice quello che aspettiamo dal modello standard, se elettroni e moni si comportano nella stessa maniera, e via via vedete quello trovato da Bell negli anni e poi le ultime misure di LHCB. Questo, diciamo, intriga molto di più perché le predizioni sono decisamente più accurate. Andiamo a vedere un po' in dettaglio. Torniamo al diagramma di base che vi ho fatto vedere prima e per provare a farvi capire finalmente perché avevo utilizzato fuori il principio di diseminazione di Heisenberg e perché siamo così interessati a questi nuovi decadimenti. Allora, questi qua che vedete sono due modi possibili in cui il mesone B0 può produrre un mesone K e una coppia o elettrone-positrone o muone-antimuone. Per fare un esempio più comprensibile, immaginiamo che dovrei andare da Roma a Torino, consultiamo Google Map e ci dà delle strade possibili, ognuna con dei tempi, qualcuna più vantaggiosa in tempo, qualcuna se non avesse messo la selezione non mi far pagare il pedaggio avrebbe scelto un'altra, ma ci sono varie strade che sono note perché avvenga un qualcosa. Quindi noi nel modello standard le strade che ci calcoliamo sono relativamente poche, siamo nel caso della casa in cima alla montagna e ci dicono che gli eventi che troviamo con una coppia elettrone-positrone e eventi in cui troviamo una coppia muone-antimuone devono accadere nella stessa maniera. E poi c'è un'alternativa di una strada possibile per andare da Roma a Torino, che non ho segnato, che non ho nel nostro modello, quindi Google non la può trovare, potrebbe essere, che ne so, un tunnel sotterraneo, potrebbe essere una galleria, ed è rappresentata da questi diagrammi che vedete, che sono un po' diversi, torno indietro, e queste particelle che vedete qui, questo Z' e questo LQ che sta per l'hepto-quark, sono due oggetti che non esistono nel modello standard e che potrebbero spiegare perché nei dati sperimentali, che vi ho fatto vedere prima qui, vedete questa riga tratteggiata è quello che ci aspettiamo, i punti neri sono quello che stiamo trovando, ora ve ne dirò, vi farò vedere ulteriori misure, potrebbero spiegare questa nuova strada non ancora, diciamo, conosciuta, perché vediamo un eccesso, nella fattispecie, di coppie elettrone-positrone rispetto a coppie di muone-antimuone. Queste misure, quelle più recenti, le fa l'esperimento LHCB, le fa il CERN, nel punto che si chiama vertex locator, all'estrema sinistra è il punto dove collidono i fasci di protone dell'LHC, LHC, come accennavo, è un anello di 27 chilometri di circonferenza, dove in quattro punti vengono fatti collideri i protoni e LHCB ha questa forma in avanti perché questo massimizza il numero di quark B o quark C che noi possiamo raccogliere, in realtà di mesoni prodotti o degli addroni prodotti da questi quark e c'è un rivelatore che è in grado di capire che cosa è successo nel punto di interazione e questo rivelatore deve essere tra l'altro capace di riconoscere gli elettroni rappresentati in blu in questo schema dai muoni che sono invece rappresentati in rosso. Dietro questi bellissimi schemi vi faccio notare le dimensioni, qua abbiamo circa 20 metri di lunghezza di quello che è rappresentato per una dozzina di metri di altezza, c'è dietro tutta una struttura, di nuovo richiederebbe una chiacchierata a parte, di tipo industriale, se vede la figura in alto a sinistra, questi sono una parte del muon system, è alto più di 10 metri, lavorazioni con carro ponte che ricordano molto un ambiente industriale, oggetti delicatissimi, questa figura che vedete qua in alto a destra è la beam pipe, il tubo dove scorrono i protoni che è fatto di berilio, quindi è delicatissimo, ci si lavora in maniera molto complessa, questa stata abbiamo fatto tutta una serie di movimentazioni per ristallarlo e poi c'è la parte di analisi dati, queste sono due figure, due fotografie che ho preso in questo test che abbiamo fatto un paio di settimane fa in cui abbiamo lavorato quasi esclusivamente la notte perché le collisioni avvenivano di notte per scelta di LHC, quindi dietro questi plot e questi risultati apparentemente semplici c'è un'enorme quantità di lavoro tecnico, tecnologico, informatico di cui non ci dovremmo dimenticare. Allora avviene un evento, le particelle fluiscono dentro il nostro rivelatore e lasciano informazione, sono come dei segnali accesi qua e là e dobbiamo capire come ricostruirli. Anche qui sarebbe lungo raccontare ma si può imparare in maniera molto semplice utilizzando due esempi. Uno è connetti puntini e quindi noi sappiamo che i rivelatori hanno determinate posizioni e quindi quando vediamo rilasce di energia o ionizzazioni lungo i vari tipi di rivelatori possiamo connetterli e cominciare a capire che cosa è successo. O a volte si usano cose un pochino più fantasiose, qua mi è venuto in mente di utilizzare queste prove per il daltonismo in cui con una certa fatica e non tutti riusciamo a vedere un pattern, una struttura. Alla fine però ricostruiamo i nostri eventi. Questa è una ricostruzione che sta andando in loop in cui vedete di nuovo i vari rilasci in tutti i rivelatori, ciascuno sensibile a un tipo di caratteristiche delle particelle e i programmi che hanno permesso di ricostruire queste tracce che sono fluite attraverso il rivelatore. Dobbiamo poi capire quali sono elettroni e quali sono buoni e andare a fare la nostra brava misura. Ed ecco qua la carrellata di risultati. Di nuovo, sto utilizzando delle slide presentate al seminario che abbiamo tenuto al CERN il 19 ottobre, quindi un mese fa, sono tecniche ma ci permettono di puntare a un particolare che è quello che vogliamo. Individuare ogni volta il riquadro tratteggiato in cui abbiamo, per esempio qua in alto a sinistra, la banda verde decolorata è quella che è la predizione teorica e i puntini neri sono quello che noi misuriamo. Lo stesso capita nel flotto a destra, in basso a sinistra, un'altra serie di misure. Di nuovo, in tutti quanti i riquadri vedete una differenza non troppo marcata, però in cui vediamo sistematicamente una mancanza di eventi o quello che ci aspettiamo dai muoni a favore degli elettroni. Tutte misure queste nel passato, stiamo arrivando via via, questo ancora era il penultimo risultato e abbiamo presentato l'ultimo risultato appunto era questo in cui, però più o meno ho già fatto vedere prima, troviamo queste misure in cui la significatività statistica non è troppo alta, ma si unisce a tutte quelle che stiamo trovando e quindi sembra esserci in qualche modo un pattern, una coerenza di risultati e per raccontarvi un po' cosa stanno facendo i teorici per capire le misure che stiamo facendo, torno ancora una volta allo schema, quello che è il diagramma di Feynman, di uno dei possibili modi in cui il mesone B si trasforma in un mesone K, quindi il quark B va nel quark S producendo una coppia lettone-antirettone. Questo è, quello che vedete a sinistra, è la descrizione dettagliata del processo, di cui però potremmo non sapere tutti i dettagli. Ricordate l'esempio dell'andare da Roma a Torino, le strade note le sappiamo, ma le strade non note no. E allora i teorici cercano di raccogliere questo non sapere utilizzando quella che chiamiamo una amicniana effettiva che vedete qua a sinistra, in cui descriviamo quello che chiamiamo c'è primo e opprimo, vede c'è primo in blu, opprimo in nero, la parte nota e eventualmente aggiungiamo una parte non nota. Per darvi un po' la sensazione, diciamo, l'idea di come funziona questo, possiamo pensare alle previsioni del tempo. Andate a cercare, in particolare americani, che sono fissati le previsioni del tempo, avete moltissimi modelli differenti che gestiscono i dati raccolti per fare delle previsioni, ma alla fine quello che a noi interessa realmente è sapere se domani pioverà o non pioverà, farà freddo o farà caldo. Quindi c'è un meccanismo equivalente, il lavoro che fanno i teorici è cercare di inserire nei loro modelli delle spiegazioni tali per, inserire degli elementi tali per spiegare questa differenza tra elettroni e muoni che stiamo trovando, codificandola in pochissimi parametri. Se veniste a seguire i nostri seminari, sentireste discutere di C9' e C10', cioè C9' e C10' come caratterizzazione di questa nuova fisica. L'aspetto veramente interessante è che tutte queste misure, di cui vi ho fatto vedere un po' la capellata prima e le sto scorrendo di nuovo, hanno una spiegazione che tende a essere la stessa, cioè vari modelli che possono essere utilizzati danno una spiegazione un po' a tutte queste misure, cioè è un po' appunto un pattern e quello che dobbiamo continuare a fare è continuare a finire di analizzare i nostri dati e l'HCB sta per presentare un nuovo risultato a breve, a settimane e poi dobbiamo finire di analizzare tutti i dati presi fino al 2018 e poi adesso nel 2022 ricominceremo a prendere dati con un rivelatore completamente rinnovato e quindi speriamo di capire meglio come andare a riempire questa ignoranza che è intorno a questa nostra conoscenza. Ci avviamo un po' alla conclusione, vi do alcune altre idee. In passato pensavamo questo combattimento tra ignoranza e conoscenza con l'immagine del Xunt Leones, la terra incognita, quindi se andate a cercare le mappe dal rinascimento in poi c'erano, descrivano le parti note e poi c'erano delle parti sempre più piccole dette terre incognite e dove spesso vi si scriveva Xunt Leones, cioè attenzione che qui è pericoloso, con l'idea però che mano mano che la scoperta andava avanti si restringessero queste aree non note e questa cosa vi ho già, spero, convinto che in realtà non è vero. Più conosciamo cose, più in realtà capiamo di non conoscerne tante altre e si allarga la nostra ignoranza. L'altro aspetto che vi ho un po' raccontato a partire, diciamo che ho introdotto con l'equazione di Maxwell, di una coerenza interna che ci aiuta a capire. A volte si utilizza per noi l'immagine di andare a mettere insieme le tessere del puzzle per costruire l'immagine. Ora, senza distruggere lo spirito scientifico che ci anima, non è detto che ci sia una coerenza sempre da tutte le misure che facciamo. Finora, dal metodo scientifico, dall'invenzione del metodo scientifico, da di lei in poi, questa cosa ha funzionato, ma non c'è un produttore del puzzle che ci garantisca che tutti i pezzi debbano andare per forza a posto, altrimenti dovremmo anche avere dubbi su come definire il produttore di questo puzzle. In ogni caso, sempre utilizzando il nostro X-KCD, noi continuiamo a sperare di avere una risposta coerente a tutte le nostre cose che non sappiamo. Un paio di anni fa è uscito questo cartoon, questo fiction, che era una singola particella che doveva essere un regalo di Natale per i fisici, che aveva le caratteristiche di spiegare tutte le cose che non capiamo in un'unica particella, una specie di sogno per noi. Più realisticamente, diciamo invece, ci lasciamo affascinare dall'impossibile. Cosa intendo? Non so se vi ricordate di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui una discussione tra Alice e la regina, Alice dice che era impossibile credere a cose impossibili e la regina la rimproverà dicendo eh no, tu non ti eserciti abbastanza, io mi allenavo e una volta sono riuscita a capire, a credere a ben sei cose impossibili prima di colazione. Che è un po' quello che facciamo noi, dove l'impossibilità è l'impossibilità del modello standard. Quindi qui vi faccio tre esempi che ciascuno potrebbero meritare un'intera lezione a sé. La ricerca del doppio decadimento beta senza neutrini, che dovrebbe essere quello che ci dice alla fine la realtà, quello in alto a destra, che ci dice, ci dà una risposta finale sulla natura dei neutrini e sulla loro proprietà e quindi possibili candidati a essere per esempio materia oscura, non i neutrini quelli che conosciamo ma i neutrini osterile. In basso a sinistra la ricerca del decadimento del protone, che è una cosa che deve essere necessaria per spiegare all'universo come lo conosciamo. Oppure la violazione del numero elettronico, non capiamo perché mentre i corpi si possono mescolare tra loro e i neutrini anche, i tre leptoni carichi, quindi elettrone, muon e tau non lo fanno. C'è un esperimento, ci sono vari esperimenti che cercano e quindi c'è questo esercizio, un po' come faceva la regina, a cercare le cose impossibili. E chiudo con questo disegno che è stato fatto da un ragazzo russo, Vlad Germisianov, che è un siberiano che ha passione per la scienza e prepara questi disegni e questo fu la sua rappresentazione, la sua contentezza subito dopo l'annuncio della scoperta del bosone di Higgs e mi piace usarlo perché ci siamo noi tutti concentrati e contenti su un piccolo aspetto, ma come ho cercato di convincervi invece quello che non sappiamo è ancora moltissimo e ci darà da lavorare e da studiare per ancora molti anni. Vi ringrazio. Grazie a te Barbara per questo bellissimo talk. Allora ricordo ai docenti che se avete delle domande le potete scrivere nella chat. Allora intanto ti leggo questa domanda che è arrivata nel mento. Dunque una particella virtuale in un ambiente abbastanza denso e con i giusti parametri decade comunque sempre insieme alla sua antiparticella? Una particella virtuale? Perché dovrebbe decadere con la sua antiparticella? Le particelle virtuali seguono delle regole e quindi se ce n'è soltanto una, come nel caso del bosone W, fatemi tornare a uno degli schemi. per esempio in questo schema qui le particelle virtuali rappresentate qui non hanno bisogno di decadere con la loro antiparticella. Altro è, tornando ancora più indietro, invece nei conti per G-2 dove stavano, in cui in questi per esempio tondini che vedete qua in realtà si sono prodotti una particella e un'antiparticella e quindi poi decadono di fatto annichilandosi, annichilandosi. Non so se questo risponde. Ok, potresti ripetere la misura di G-2? La misura di G-2? Allora, quando siamo agli albori della meccanica quantistica viene fuori che l'elettrone aveva uno spin semi intero, cioè aveva questa proprietà, questo momento magnetico che era metà, che era qualcosa che classicamente noi riuscivamo a rappresentare e c'è un, diciamo, Dirac fa un primo conto in cui definisce il suo momento magnetico anomalo in quanto non è quello di una particella classica e ha il valore 2. In realtà poi dalle prime misure si capisce che non è proprio 2 proprio perché esistono queste correzioni, cioè che l'interazione tra lo spin, quindi il magnetino con cui possiamo pensare di rappresentare l'elettrone e un campo magnetico, che è definito dal primo diagramma in alto a sinistra, può venire in tanti altri modi, quindi il fattore che classicamente si chiama il giro magnetico non ha esattamente 2, ma è un pochino meno di 2. E quindi questa è stata una delle conferme della meccanica quantistica e poiché il calcolo teorico richiede un uso spinto di quella che è elettrodinamica quantistica e cominciato un esercizio di calcolare quanto non fosse uguale a 2, quindi la differenza grossa è dell'ordine del per mille, 1,6 per mille, 1,1 per mille e poi via via si è andata raffinando. Quindi quello che hanno misurato nella colonna con l'oggetto che vedete sotto è essenzialmente la precessione dei muoni in un intenso campo magnetico, quindi i muoni vengono fatti circolare e si misura la loro precessione da cui si ricava il fattore G. Mentre la colonna verde è quello che noi ci immaginiamo assumendo il modello standard. Ok, grazie mille Barbara, vedo che non sono arrivate altre domande nella chat, quindi grazie mille ancora, grazie ai nostri spiegatori. Barbara poi indichiamo la tua email su Accendi Scienza dove metteremo anche le slide, infatti vi ricordo che le slide saranno disponibili sul canale Accendi Scienza, sul nostro portale di learning, mentre il video rimarrà disponibile sul nostro canale YouTube. Bene, allora io ringrazio i regi a Deborah Bifaretti e Sara Arnone e vi diamo appuntamento a dicembre con il prossimo talk di IDF Online. Grazie, arrivederci. Buonasera a tutte e a tutti, grazie.